Taormina in tutto il suo splendore il paesino in alto a sinistra è Castelmola un comune indipendente stiamo navigando con la mia parchetta che si chiama Carmelina verso Giardini Nexos con alle spalle l'Etna che fuma sempre il bellissimo oveliero Windstar stella del vento Giardini Nexos una splendida località turistica di faccio non ma non ma ma Grazie a tutti.